Allora, buonasera a tutti, io sono Martina Alberghetti, studentessa LUIS di International Relations. Inizio col ringraziare la LUIS, CEO for Life, a nome mio e del mio team, per questa opportunità. Unipol Group è una compagnia assicurativa, leader in Italia nei rami danni e nell'ERC Auto e svetta, nelle gradi attuali, sia nazionali che europei, dei gruppi assicurativi. Tra i suoi obiettivi principali vi è la volontà di essere leader del mercato, lavorando in un modo efficiente e veloce, ma allo stesso tempo di soddisfare le esigenze delle persone, garantendo loro più sicurezza e fiducia nel futuro. Unipol Group si impegna nel sostenere progetti che favoriscono una società più inclusiva e sostenibile, offrendo risorse e strumenti di sviluppo e ricerca. Inoltre, l'azienda promuove anche la cultura dell'innovazione per migliorare il benessere dei suoi clienti e della società in generale. Nell'ambito della missione 4 del PNRR Unipol Group porta avanti il progetto Marconi Labs che si tratta di un laboratorio innovativo per il potenziamento delle capacità di supercalcolo tramite anche l'attivazione dell'euro HPC Leonardo. Tale infrastruttura sarà utile anche per favorire le attività di formazione negli ambiti delle key enabling technologies. e con questo progetto Unipol Group vuole infine favorire un'attività di ricerca scientifica e innovazione tramite lo sviluppo di nuove tecnologie e strumenti computazionali che saranno utili nel rilancio economico dell'Italia e nella transizione ecologica e digitale. Grazie a tutti per l'attenzione e passo la parola al dottor Genovese. Grazie mille Martina. Prego dottor Genovese. Le chiedo di rispettare i tempi perché siamo fuori. Io ce li ho lì, sarò velocissimo. Io la controllo da qui. Grazie Martina per la presentazione. La nostra storia, quella che portiamo come esempio che avete scelto, è una storia di transizione analoga a quella che raccontava l'amministratore delegato di Renault Italia. Tutti noi dai nostri business siamo trovati a dover più o meno spontaneamente evolvere in qualcos'altro. Anche Unipol da leader nelle assicurazioni, in particolare l'RC Auto, noi siamo la prima compagnia italiana nella copertura dei rami auto, evolviamo in operatore della mobilità. Quindi una transizione sostanzialmente analoga. E l'esempio che è stato portato oggi, quello dei Marconi Labs, è un pezzetto, un tassello di questa trasformazione. Innanzitutto il nome Marconi Labs è riferito al pre-PNRR. Era un progetto che noi avevamo attivato per portare a Bologna un centro di calcolo potentissimo, una potenza computazionale prima in Europa, diciamo leader. Poi abbiamo costituito una fondazione promossa dalla regione Emilia Romagna e con questa abbiamo traghettato innanzitutto anche altri soci come Eni per la presentazione all'interno del PNRR di una richiesta di finanziamento per un centro di eccellenza. I centri di eccellenza sono diventati cinque. Uno di questi è appunto il cosiddetto tecnopolo, che è un centro di supercalcolo e big data, sta a Bologna. Lo abbiamo fatto perché? Perché noi per primi, quasi vent'anni fa, abbiamo investito sulla telematica. Noi siamo i primi installatori di black box, di scatole nere nelle auto e questo ci ha portato ad avere progressivamente una quantità impressionante di dati da gestire. I dati se non ci fai qualcosa non servono a niente. E tra l'altro, evolviamo anche il concetto, non sono solo i dati l'input della presenza dell'auto, ma anche una serie di informazioni che vengono da cose miste, da immagini, da suoni, da tracce digitali. Oggi il comportamento di un automobilista è rilevabile da tanti indicatori. Vorrei dire anche dalle multe, che cosa che non consideriamo mai, ma insomma una persona propensa a prendere molte multe non è necessariamente un buon guidatore e quindi non è un buon assicurato per noi. Però tutti questi dati generano una quantità impressionante che deve essere analizzata. Noi abbiamo creato una nostra società in house che si chiama Leità, ha già 100 dipendenti, sono tutti ingegneri, sono tutti data analyst, cose complicatissime, ma perché ci crediamo molto e crediamo che ci consenta di fare il nostro lavoro di assicuratori in modo molto più moderno e molto più evoluto. Tema privacy, quando si parla di dati è necessario, noi a Google e ad Amazon consegniamo tutto, cioè nella nostra vita abbiamo consegnato tutto senza che ci chiedessero niente. Noi continuiamo a credere, diciamo, nella opportunità di credere il permesso ai nostri assicurati. Questa idea del Marconi Labs, poi diventato IFAB, l'abbiamo riproposta sulla mobilità. Uno dei cinque centri, come dicevo, oltre a questo del supercalcolo, del Tecnopolo di Bologna, è il Centro per la Mobilità Sostenibile. Siamo fondatori e aderenti anche in quel centro perché, come dicevo, dati, analisi e mobilità per noi diventano la base della Unipol del futuro. Grazie. Grazie mille Stefano Genovese e complimenti per essere stato bravissimo.